Capriela, come stai? Sto bene, un po' stanca, ma tutto bene. Tu come stai? Ah, sto bene, quasi quasi. Com'è la tua famiglia? Sto bene a New York, ma è quasi la Natale. Molto vicina? Sì, molto molto vicina. Molto incestivo, sì. Francesca, ti devo parlare del ragazzo che ho conosciuto. È bellissimo! Ah, sì? Com'è bello? Sì. Com'è? Lui è alto, molto forte e con un sorriso che incanta. Sembra come il mio ragazzo. Sì, ma il mio mi dice che sei speciale. Sei speciale? Sì. Sì. Lui mi dice che i miei occhi sono speciali come le stelle. Ma la mia frase preferita è... Non ho mai conosciuto nessuna come te. Aspetto un momento. E' Fabrizio? Fabrizio! Fabrizio! Aspetta, sento delle voci. Sembra Fabrizio. E' Fabrizio? Non ho mai conosciuto nessuna come te. Oh, come sei dolce. Ho passato una bella salata. Sì, anche io. Grazie. Tu sei speciale. Oh, grazie Fabrizio. Quoi un po' di che? No, grazie. I tuoi occhi sono belli come stelle. Grazie Fabrizio. Chi è? Ah, mia mamma. Oh. Ciao. Come va? Ragazza! Che? Sono Francesca. Sono Gabriele. E siamo due amici. Fabrizio. Giù di te. Siamo nel ragazzo. Fabrizio. Che? Fabrizio! 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 E' un brutto ragazzo. E' un ragazzaccio. Sì. E' un uomo che non è buono con le donne. Sì, non è buono come te. Non è buono come me. Non è buono come lei. No. No. Non è giusto. Spera. O prendo un caffè per te. Grazie, grazie. Spero che. Oh, I don't have a mood. Oh, Dio. Lo senti. Grazie. Non vabbè. Non è il problema. Pensavo mi amasse. Sì, anche io. Anche io. Guarda i massaggi. Sì. Guardiamo. Sì. Amo, amo, amo. Ha detto lo stesso alle tre. Tutte le bugie perché tre ragazze nella vita di Fabrizio non è giusto, non è bene. Non è giusto. Non ti serve questo. Sorry. Ha conosciuto la mia famiglia. Ha conosciuto la mia famiglia. Oh, è un giusto ragazzo. Non è giusto. Non è bene. L'occhio è la stessa. Ma è un giusto che è bene. Anche le stelle. Basta lacrime. Ok? Ci vendicheremo. Ci vendicheremo. Ci vendicheremo. Sì, sì. Oh, andate, sta comando. Sì, Fabrizio! Ciao! Mi dispiace! Oh no! Ciao Fabrizio! Ciao Fabrizio! Come te? Come stai? Ti posso spiegare? Non è come sembra! Non è come sembra! Come sembra Fabrizio! No! Addio Fabrizio! Che sanita! Ciao sfigato! No! Ciao! No! 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 Ciao Gabriella! Come stai? Ah, sto bene! Un po' stanca ma... Ehm... Sta fiorbendo molto! Ah sì! Come scuola? Sarà bene! Ehm... Troppo lunga! Ma... Ehm... Buonissima! E la tua famiglia? E stanno... In casa... In New York! Tutto bene! Tutto bene! Ma... Ti devo... Contare... Ballare... So... I ragazzi che ho conosciuto! Ah! Un ragazzo! Dari! Ehm... Ehm... You can't... Ok... Ehm... 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 Do you have to go first, baby? Oh, it's a go... Ok, I've got it! So, could we... Just like... Do a run-through Yeah... So you have to be a professional to see what it sounds like. Ok wife, ok. Can you guys like go down like a couple steps? Yeah. Cause I'm going to try the awesome. Should we just be on the list? Yeah, obviously it would be a lot easier. Can you be able to see? Wait, yeah. Come on, calm down. What are you doing? Oh, me and Mama. Oh. Ciao. And you did that to get me alone. That's what you did and then you came up and you grabbed me. Yeah. Ok, ok. See how hard it is. Ok, now I'm going to go first maybe. Ok, I've got it. Yeah, I like keep a bit of it first cause it's easier to cut. What is that? What is that? I'm a beautiful painter. Grazie. I never do that. See what are you looking like? What? Oh my God! Oh my God! Towa day cafe? No, grazie. No. Can I say? And your eyes are not beautiful on the side. You can see me on the side. Sì